Ma non nascondiamoci colleghi che questa settimana ci sarà un passaggio importante alla Camera. In Parlamento questa settimana si voterà il decreto sulle elezioni. Sappiamo che è un passaggio delicato perché la maggioranza ha deciso con le solite forzature di inserire in un decreto che doveva fissare una data alcuni elementi che cambiano le regole del gioco, cosa che già non si dovrebbe fare con un decreto, ma con una discussione piena parlamentare coinvolgendo le altre forze politiche pure all'opposizione. Sono spaccati in maniera evidente, soprattutto sulla questione degli emendamenti presentati sul terzo mandato. Sappiamo che anche al nostro interno convivono delle sensibilità diverse da tempo su questo tema, ma noi, a differenza degli altri, siamo abituati a discutere, a confrontarci tra di noi. E per questo ho chiesto al responsabile degli enti locali, Davide Baruffi, appena dopo la mia relazione, di illustrare questo punto, con l'auspicio che come gruppo dirigente lo affronteremo insieme nell'ascolto reciproco, sapendo che amministratrici e amministratori locali sono una parte fondamentale che dà l'infa vitale a questa comunità.